Ma intanto bisogna mettersi in testa che i giovani ci sono e sono il futuro di questo pianeta. Poi i ragazzi sono anche problematici, nel senso che qui c'è un'immigrazione dall'Italia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, e c'è un'immigrazione dalle altre regioni d'Europa e del mondo, quindi c'è molta vivacità, come nelle grandi città, ahimè. E' chiaro che gli organi competenti, cioè la Polizia dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Statale, ma anche e soprattutto la Polizia Locale, fanno controlli anche con il Covid. Noi abbiamo mantenuto ultimamente aperti i parchi, i giardini, i cimiteri, le piste polivalenti, il ciclo pedonale, e questo non vuol dire che non si fanno, diciamo, i controlli, non ci sarebbe bisogno per la verità di fare i controlli se tutti i cittadini, compresi i ragazzi, rispettassero le regole. E' chiaro che ci sono dei luoghi anche un po', diciamo, lasciati soprattutto dai privati, molte aziende nel periodo del boom andavano benissimo, quindi erano tutti in ordine. Nel periodo di crisi ci sono dei fallimenti, sono lasciati in abbandono dei beni e quindi diventa più problematico. Mentre il Comune tende a tenere, non dico tutta la perfezione, ma quasi, tutti i beni pubblici, i beni privati vivono un periodo di difficoltà, di crisi economica, e quindi molti sono beni abbandonati, altri sono nelle mani dei commissari che fanno i liquidatori. Insomma, è un periodo particolare anche per quel che riguarda questa questione. L'attenzione comunque è costante e continua dagli organi competenti che controllano perché sia rispettate le regole.